vabbè ragazzi io questo lo sto girando subito dopo il tutorial anche se lo caricherò probabilmente il giorno dopo ma ho molta voglia di scoutare per queste acqua quindi vado subito a usare questi 3 ticket e fare uno scout dai 50 perchè voglio dare il benvenuto alle... oh mio dio oh mio dio oh mio dio porca troia l'unico scout che non faccio in streaming e guarda che cazzo mi esce ma porca troia ma por... grazie cica grazie c'è una web così bam in faccia ma porca troia oh mio dio ma mi sa che lo carico prima del tutorial questo video oh mio dio che cosa sta succedendo cica ma che cazzo cica che cazzo mi stai dicendo cica cosa mi vuoi dire cica madonna ragazzi sto sclerando madonna ragazzi madonna cica cica ma sei sei la mia dea cioè non lo so mi esce pure una ssr di cica adesso che porca guarda sarei tentato di non usarle più di 50 gemme che magari prendo merda però ormai l'ho detto e sono un uomo di parola ruby vabbè non mi piace ruby chi mi conosce lo sa porca puttana ma questa ur in faccia vabbè calma 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 andiamo a fare sto scout dai 50 mamma mia ragazzi che emozione madonna c'è la ur non so quanto ragazzi vi giuro ho perso ho perso il conto da quanto tempo che non vedevo una ur questo è un ssr vabbè dai ci sta oh canon canon ci sta ci sta madonna c'è la ur un'altra canon è Enrico Enrico è un'altra di quelle che non mi piace quello che è un ssr non prendetevi non preintendetevi è un ssr la idolizzo sicuramente con gli sticker tutto in onore del ah Mari ciao tutto in onore della potenza delle carte ragazzi vi giuro che sono contento poi non è che mi sta tanto sulle cioè non è che la odio Enrico è che sono un patito shipper chica io quindi la vedo un po' di malocchio però no dai dai sono contentissimo cazzo la mia prima ssr porca puttana con 4% di possibilità minchia un bacio veramente grazie grazie no no veramente sono troppo contento grazie rng grazie rng grazie 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 rng grazie va bene io direi che metterò prima il video dello scout perché porca puttana va bene ragazzi ciao a tutti sono troppo contento matto ciao 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 un bacio grazie a tutti